Ciao! Allora, siamo qua per fare il videotag non mirror makeup challenge che sarebbe il videotag in cogi trucchi senza specchio soltanto che vogliamo farlo come Cindy e Pamela quindi a due, quindi io truccherò lei e lei truccherà me bendate. Adesso se vuoi vedere il trucco che lei ha realizzato su di me clicca sulla mia faccia. Mentre se vuoi vedere il trucco che lei ha realizzato su di me clicca sulla mia faccia. Quindi adesso saranno decidendo dove cliccare? Ecco, 3, 2, 1